Martedì 13 dicembre, buongiorno da Gabriele Silvestri, ben ritrovati dalla redazione, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione per la nostra rassegna stampa. Leggeremo e commenteremo insieme le notizie di oggi attraverso i quotidiani e ultimo ora dal web. Iniziamo subito con la prima pagina di Repubblica che titola oggi in merito alla nuova squadra di governo, nuova ma il titolo eloquente in questo caso, Gentiloni. Il governo fotocopia Boschi, promossa a Palazzo Chigi, Perlotti, il Ministero dello Sport, Alfanova, Agli Esteri, via invece la Giannini che paga probabilmente la riforma della scuola, Finocchiaro e Minniti, i nuovi. Parla di Maio, così si scavano la fossa di Maio del Movimento 5 Stelle, escluso Verdini, no alla fiducia. Il punto di Stefano Folli, l'ultima amnesia, come se alle urne avesse vinto il sì, c'è anche su Repubblica la foto che ritrae, il tradizionale passaggio della campanella da Matteo Renzi a Paolo Gentiloni, nuovo premier e 18 ministri. Quindi compongono la nuova squadra con 5 new entry e quindi è nato il governo Gentiloni con la riconferma di tutti gli uscenti tranne Stefania Giannini, Maria Elena Boschi che però diventa sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Stop all'ingresso dei verdignani nell'esecutivo e al Senato, i numeri sono comunque in bilico. Michele Ainis scrive, la cabala della politica, c'è un folletto, c'è un diavolo burlone dietro questa crisi di governo. Le prove basta mettere in sequenza i fatti o i numeri che si ripetono come in una giostra, dal 12-4, voto finale della Camera sulla riforma costituzionale, dal 4-12, voto popolare al referendum, fino al 24-1, voto della consulta sull'Italicum, insomma 1, 2, 4, i primi tre numeri ma senza il 3. E' insomma un singolare pezzo che riporta la ricorrenza di questi numeri nella particolare e delicata fase della politica italiana. Mario Calabresi per Repubblica invece scrive, troppo poco, aveva un bisogno di un governo leggero, efficiente e dotato di senso pratico, capace di chiudere i dossier più urgenti mentre il Parlamento lavorerà a scrivere le regole per tornare al voto in tempi brevi. Avevamo bisogno di un governo capace di affrontare l'emergenza bancaria, gestire il fenomeno migratorio e le sfide di politica estera in un quadro che sta cambiando radicalmente dopo l'elezione di Donald Trump. Avevamo bisogno di un presidente del Consiglio serio e allergico ai protagonismi e di un ex premier capace di fare un passo indietro e provare a ricostruire il suo partito e il rapporto con i cittadini. Tutto ciò sembrava a portata di mano, ci si è mosse in tempi brevissimi e Gentiloni certamente la figura giusta. è riuscito anche a resistere alle pressioni di Verdini, tenendolo fuori e ha evitato una macchia politica che sarebbe stata letale per il suo esecutivo. Matteo Renzi ha fatto gli scatoloni, ha scritto la sua lettera da Dio al governo nel cuore della notte e promesso di dedicarsi solo al PD. Sembrava così un nuovo inizio, poi sono arrivati i dettagli, quelli in cui è solito nascondersi il diavolo. Maria Elena Boschi, la madre della riforma costituzionale bocciata dagli italiani, anziché fare un doveroso passo indietro, ha chiesto ed ottenuto una promozione. Per farle posto si sono risuscitati due vecchi ministeri, uno per il fedelissimo Lotti e l'altro per De Vincenti. Angelino Alfano si è spostato alla Farnesina. Un passaggio incomprensibile in una fase così delicata, dato che non si conoscono sue competenze in politica estera, come non pensare ad una mossa dettata dalla voglia di allargare il curriculum o dalla necessità di allontanarsi dalla patata bollente dell'immigrazione, ma non era meglio restare e rivendicare il lavoro fatto, scelte evitabili che rafforzano diffidenze, gonfiano il qualunquismo e lasciano un retro gusto di furbizia e immaturità a pagare gli errori del passato. La sua amministra Giannini, senza che il governo abbia mai fatto un minimo di autocritica sulla riforma della scuola. Troppo facile e troppo poco. Il motore spento dei democratici, scrive invece Stefano Cappellini, la sua analisi. Matteo Renzi ha consegnato al suo successore Paolo Gentiloni un voluminoso report sull'attività di governo, un passaggio di consegno certo, ma anche e soprattutto un modo di rivendicare l'operato dei suoi mille giorni. A Palazzo Chigi. Non c'è invece, probabilmente non ci sarà, un dossier sui tre anni da segretario del Partito Democratico che Renzi dovrebbe consegnare a se stesso. Il biscione scalata ostile a fondo di vivendi vuole il 20% di Mediaset, mentre in America Trump diventa alleato dei pacifisti, no agli F-35, troppi costi. Continuiamo la nostra rassegna stampa con un'altra prima pagina, ci spostiamo sul Corriere della Sera per evidenziare come viene trattato il nuovo governo. Pochi nomi nuovi, anche qui si sottolinea la poca novità. Gentiloni al via, al fano agli esseri minniti all'interno, entrano fedeli e fino chiaro. Boschi sottosegretario alla Presidenza, lotti ministro, Verdini va fuori. Le ferite da ricucire, scrive Massimo Franco. Dieci rischi per Renzi e il pezzo di Paolo Mieli. Leggiamo allora l'incipit di questo pezzo. Mentre Paolo Gentiloni riceve l'incarico di formare un nuovo governo, il pensiero va al Presidente colombiano Juan Manuel Santos, che ai primi di ottobre è stato sconfitto nel referendum sull'intesa con le forze armate rivoluzionari del suo paese ed è rimasto al suo posto ed è stato persino insegnito del premio Nobel, premio che ha ritirato ad Oslo nelle seste ore in cui Matteo Renzi lasciava Palazzo Chigi. Un'eccezione, quella di Santos, alla regola generale per cui, da Charles de Gaulle a David Cameron, tutti i capi di governo hanno sempre lasciato i loro incarichi dopo essere stati battuti in una consultazione referendaria. Cosa ha reso possibile l'anomalia di Santos? Il fatto che il Presidente della Colombia, pur avendo perso e in seguito per condizioni interne e internazionali da lui stesso predisposte, è stato in grado di riprendere in mano il proprio progetto, di sedersi nuovamente al tavolo delle trattative con le Farc, e di frontare a una rivincita nelle urne in tempi brevi. Il nostro Presidente del Consiglio uscente ha ogni evidenza. Tutto ciò non sarebbe stato consentito. Massimo Franco scrive invece le ferite da ricucire. È un esecutivo di sopravvivenza, con tutti i limiti e le potenzialità che questo implica. L'ambizione e il compito di Paolo Gentiloni saranno quelli di sotturare le ferite lasciate dal referendum del 4 dicembre e da mesi di scontro con le opposizioni e accompagnare l'Italia al voto nel 2017 o l'anno dopo. La capacità di mediazione del nuovo Premier sono riconosciute da tutti e Gentiloni sa di avere l'appoggio e la fiducia del Capo dello Stato, Mattarella. Il problema è quanto il suo stesso partito gli permetterà di consolidare questa nuova identità. La lealtà a Matteo Renzi è perfino troppo sottolineata dalla lista dei ministri. Quasi una fotocopia del suo esecutivo con l'ex ministro alle riforme, Maria Elena Boschi, solo in apparenza declassata a sottosegretario a Palazzo Chigi. Ma il PD non sembra affatto pacificato. Il segretario si prepara a riaffermare il primato su un partito in ebollizione. scottato dalle sconfitte e soprattutto non è pacificata l'Italia. Le opposizioni rimarcano una compagine schiacciata sul fronte del sì dopo aver fatto di tutto perché nascesse proprio così. Andiamo a leggere qualche altro titolo sul Corriere della Sera, sempre in merito alla politica, anatomia di una squadra, punti di forza e debolezze, i numeri della frattura con ala e il Premier fece i conti, il pezzo di Francesco Verderame, all'interno il giglio magico non cede, scrive Pierluigi Battista, e poi Federico Fubini, il tesoro e il nodo MPS, la strategia in merito a Monte dei Paschi di Siena. In dettaglio basso invece andiamo a riprendere la questione media 7, volore scala media 7, ma ci difenderemo, il Biscione non è d'accordo, Vivendi al 3% e punta al 10-20%, il gruppo francese Vivendi di Telecomunicazioni di Vincent Bolloré ha annunciato di aver rilevato il 3% di media 7 e di voler salire fino al 10-20% per diventare il secondo socio. La mossa sul gruppo di Berlusconi dopo lo scontro sull'ingresso dei francesi in premium, la Fininvest, la scalata è ostile, ci difenderemo, Vivendi è il principale azionista, lo ricordiamo, di Telecom Italia. E adesso invece parliamo di Muti, Riccardo Muti a Tel Aviv il 20 dicembre, io in Israele 80 anni dopo Toscanini, andrò in Israele 80 anni dopo Toscanini, chiederei se è il primo concerto nell'appena nata orchestra di Palestina, oggi filarmonica di Israele. il prossimo 20 dicembre eseguirò lo stesso programma di quel giorno del 1936, ed è proprio Riccardo Muti, il maestro a scrivere questo pezzo per il Corriere della Sera. Ci fermiamo adesso, piccolo break per noi, torneremo con tutte le altre notizie di oggi, fra poco.